Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta piselli specche e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, piselli surgelati, specca listarelle, funghi surgelati, olio, cipolla, sale, acqua, pepe e prezzemolo. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed azionare il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo spec, i funghi, i piselli, e ad azionare il bimbi per 5 minuti, 120 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il sale, il pepe, il pepe, l'acqua, ed azionare il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere la pasta, mescolare con la spatola e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 11 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. La pasta è cotta, impiattare, spolverizzare con il prezzemolo tritato e servire. Pasta, piselli, spec e funghi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!